Il nostro core business è la cena, quindi a pranzo lavoriamo il sabato e la domenica, ma diciamo che il cuore è pulsante della cena, dove questa attività si svolge con maggiore successo. Noi abbiamo fatto questa scelta di stare aperti il sabato a pranzo e la domenica a pranzo e fare il sabato a sera facciamo i delivery. Ho fatto una scelta oculata in modo tale da riuscire a offrire un ottimo servizio concentrando l'energia sui due giorni e una settimana. Il porto e il delivery sono uno strumento nuovo che si sta cercando di sviluppare. Francamente l'esperienza ristorante è un'altra cosa, però cerchiamo sempre di attraverso i nostri piatti sviluppare una sensazione importante anche a casa dei clienti. Come ti poni di fronte a queste proteste della tua categoria? Non lo so, faccio il cuoco e non so cosa sia giusto. Ci concentriamo sul lavoro, non so cosa sia corretto o sbagliato. Non ho le capacità, gli strumenti giusti per lo giudicare.